E' giunta la ventitresima edizione, la biennale d'arte fabbrile di Stia. Dal 1976 la manifestazione richiama in questo paese dell'Alto Casentino centinaia di fabbri da tutto il mondo. Sì, stamani diamo il via a questi nuovi quattro giorni di festa, diciamo, perché questa è una festa un po' per tutti. E' una festa dedicata ai fabbri che qui si ritrovano e trovano in questo posto un luogo dove confrontarsi, dove misurare le loro capacità e il modo di crescere insieme. Però è anche una festa perché riescono anche ad avere dei momenti veramente di amicizia e di condivisione. Per quattro giorni la cittadina casentinese sarà dunque capitale internazionale del ferro battuto. Fino a domenica oltre 200 fabbri provenienti da tutta Europa e non solo si sfideranno a colpi di incudine e martello per il nono campionato del mondo di forgiatura, tema di quest'anno i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Io faccio fabbro a 15 anni. Anche una volta sono a lavorare con Roberto Giordani, la sua offizina. E poi il percorso espositivo con 25 maestri del ferro battuto e per il secondo anno consecutivo il concorso internazionale di scultura a tema 20 luglio 1969 Sbarco sulla Luna. Dalla tradizione al futuro con il forum degli studenti di tre scuole di forgiatura europea, quella di Stia, quella inglese e quella finlandese, gli studenti forgeranno opere da collocare negli angoli più suggestivi di Stia.